Wow, bella ragazzi! Stiamo in questo nuovo video, io sono Cristian e oggi siamo su un nuovo video annuncio Ragazzi, non aiutate il video perché questa è una notizia stravagante Voi cred... Ma non è troppo figo questo ciò, guardate Ragazzi, nuova casa Casa nuova, vita nuova, no? Come si dice Ragazzi, si stanno avvicinando di più le medie Per me, io sono felicissimo perché Ragazzi, di aprire finalmente compio 11 anni ragazzi Ed io ragazzi vi consiglio di iscrivervi al più presto possibile Perché ragazzi, a breve Farò delle serie sulla Playstation 1 Sì ragazzi, lo so, è troppo vecchia E solo ragazzi, solo questo mi posso permettere Penso che qualcuno di voi mi potrà capire, no? Con la crisi economica Ma ragazzi, ma ragazzi Mio fratello aveva un Xbox nero Nuovissimo Solo che ho un po' rotto il coso di disco là Vabbè, comunque poi senza che vi spiego Ragazzi, a breve tempo lui aggiusterà anche la... La cosa, come si chiama? Aspetta Ecco, qui c'è la luce bianca A breve tempo uscirà... Cioè, no, che cazzo ti diceva A breve tempo l'aggiustere E quindi la... Xbox sarà mia E farò tanti bei giochi come GT5 Non so, perché stanno Farò Spinter Cell Il nuovo che hanno fatto Non mi ricordo come si chiama Poi qualche Assassin's Creed Ghost Recon Poi si vede Vabbè ragazzi Ve lo so dire questo ragazzi Di Minecraft Pocket Edition Come si dice Anche per la 9.0 La 0.9.0 Non ancora ho visto nessuna notizia Poi ragazzi Sto cercando di avere internet Il più possibile Solo che ragazzi Ora io mi sono trasferito di casa E ora c'erano tante linee che prendono Però C'è una Che si chiama Dei Fiult Che senza password Però Questa è la camera Che prende diciamo Di più Che poi di più Una schifezza Prende Ragazzi Lo giuro Cerco di seguire Il più possibile Il video di tutti Ma non ci riesco proprio Perché proprio Mi fa arrabbiare Non so nemmeno Se questo video Oggi è Domenica Non so nemmeno Se lo pubblico Oggi Perché io Di solito Quando li faccio Li pubblico subito Non so nemmeno Se li pubblico Non so nemmeno Se lo pubblico Oggi C'è ragazzi Una cosa Da far arrabbiare Ragazzi Che vi voglio Non fateci caso Aspettate un attimo Ecco Ho fatto La luce La luce salva Vediamo se ve la riesco a far vedere Eccola Qua Aspettate ragazzi Che ho la videocamera E l'interno Mi scappare Eccola lì Eccola lì Quella da sopra Questa è la televisione E lì i certi giochi Allora ragazzi Non vorrei dilungare troppo Perché devo ancora Pure andare in bagno Se questo vi è piaciuto Lasciate un like Un commento Mi piace Ragazzi Speriamo Io spero Che vi iscrivete Voi perché Se vi iscrivete Mi piacere Che ragazzi Avere Io ho 3 iscritti E spero che Prima o poi Raggiungerò Il mio treguardo Che ho sempre Sognato di raggiungere Era quello di Di 50 iscritti Ragazzi Perché 50 iscritti Sono veramente tanti Che per me Non so che farebbero 50 iscritti Oh mio dio Tivo Non so Mamma mia Avere i 50 iscritti Non lo sognare Lo posso solo sognare Perché Di certo I 50 iscritti Non Così Lo so 50 iscritti Però sono pochi Come Fabi J Gabi 16-bit Ver Perfino con Fabi J A 500 500 500 mila Mi pare I 50 iscritti Che lo seguono A me piacerebbe Averne A meno 10 Perché 10 persone Che mi seguono 10 persone Che Vengono Vengono E Mi seguono I miei video Che farò Spero che Piaceranno E Buona fortuna Ragazzi Condividete Se volete Scrivetevi Se volete Tutto Se volete Ragazzi Chiudete Chiudete Il video E Non mi piace Fate come volete Voi Io non vi costo Incaffare niente Ciao ragazzi E alla prossima